Inizieremo questa intervista chiedendoti cosa ti ha fatto concepire questo Adiyogi e cosa ti ha fatto arrivare a questa conclusione che sia necessario e importante nel perseguimento della tua spiritualità e per la gente. Non è nel perseguimento della mia spiritualità. La mia spiritualità non ha bisogno di alcuna forma. Non ho bisogno di un tempio, né di una montagna, né di una statua. Ma per inculcare questo nel mondo, per portare il processo spirituale in quanto aspetto quotidiano della vita, il mio obiettivo fondamentale è di far scendere la spiritualità dalla cima della montagna alla strada. Voglio ridefinire il termine strada. In questo momento, se dici strada, la gente penserà a alcol, droga, prostituzione. Questo è ciò che la strada rappresenta. La mia visione è che nei prossimi 15-20 anni dobbiamo trasformare questa strada. La strada dovrebbe significare benessere, dovrebbe significare amore, meditazione, processo spirituale. In questo sforzo ci sono molte cose che vengono fatte. Una cosa importante è un volto iconico. Adiyogi precede tutte le religioni. Prima che arrivasse l'idea della religione, lui espose la scienza del benessere umano in un modo scientifico, non come una filosofia, non come una religione, non come un sistema di credenze, non come un'ideologia, ma come una tecnologia, come una scienza. Metodi di trasformazione, non filosofie di trasformazione. Quindi è rilevante, nonostante sia di 15.000 anni fa. Appartiene al futuro, perché solo ora l'umanità sta arrivando a questo punto, in cui l'intelletto umano arde come mai prima. Più persone possono pensare per se stesse come mai prima. La gente osserva le cose logicamente. Io penso che il momento giusto, affinché Adiyogi esploda sul pianeta, sia arrivato, perché l'intelletto umano ha raggiunto quel punto in cui possono cominciare a guardare al proprio benessere, senza alcun sistema fantasioso di credenze o ideologie, ma come una scienza, come c'è tutta una scienza per il benessere esterno, c'è tutta una scienza per il benessere interiore. Ecco ciò che lui rappresenta. Nel tuo discorso hai parlato di forma, struttura, importanza della creazione di spazi scientifici per la meditazione. Puoi per favore spiegare meglio il punto in cui dici che l'arte e la scienza della costruzione dei templi sono andate perdute. Perché dici questo nel tuo discorso? Vedi, tutte le forme fisiche, che sia il tuo corpo o il pianeta o il sistema solare o l'universo o l'atomo, dalla più piccola alla massima manifestazione fisica. La manifestazione fisica è come per via delle sue proporzioni geometriche. È la perfezione della geometria che mantiene le forme fisiche nello spazio. Questo pianeta non è legato al sole con un cavo. È la perfezione geometrica. Se va fuori da questa orbita non tornerà più indietro. La mantiene per via di una certa perfezione geometrica. Quindi l'intera scienza dello yoga è proprio questo, portare il tuo sistema in una perfezione geometrica tale che sei allineato con la geometria cosmica. In questo sforzo anche noi creiamo delle forme fisiche. Guarda questa forma. Qui non si tratta, esteticamente sì, c'è una certa bellezza in essa, ma soprattutto c'è una perfezione geometrica in essa. Per cui se guardi il viso di Adiyogi per un minuto, senza distogliere la tua attenzione, è fatta per tutta la tua vita. Questa immagine sarà impressa nella tua mente. Non potrai mai toglierla. L'idea è di mettere quell'impronta nelle menti delle persone, così che la loro ispirazione sia verso il proprio benessere interiore. La loro ispirazione e il loro desiderio naturale diventeranno per il proprio benessere supremo, non per sperperare la propria vita facendo cose insignificanti. E' adiyogi! E' adiyogi! E' adiyogi!